L'8 giugno si avvicina, è il giorno di questa grande mobilitazione che sta organizzando col Diretti Calabria per ricordare al Presidente Oliverio che ancora quelle promesse non sono state mantenute nei confronti dell'agricoltura. Beh sì, una mobilitazione per dire intanto che la Regione così com'è non va, lo abbiamo già detto questo al Presidente Oliverio nell'incontro che abbiamo avuto il 22 maggio ultimo scorso, lo diremo tutti insieme in piazza, ma anche per sollecitare azioni concrete su alcuni obiettivi strategici che abbiamo voluto ricordare e che ricordiamo anche questa mattina. Quali sono? L'agricoltura e l'agricoltura hanno la necessità di utilizzare di più e meglio e velocemente i fondi comunitari, non perché bisogna fare la spesa ma perché dobbiamo investirle dove? Sui giovani che stanno già in agricoltura e che vogliono entrare in agricoltura. Ma c'è bisogno di politiche attive per l'agricoltura che non necessariamente impegnano risorse. Pensiamo ad alcuni progetti di legge che abbiamo già sottoposto per mitigare per esempio i danni da cinchiale che ovviamente in alcune zone della Calabria hanno letteralmente distrutto il raccolto agricolo ma soprattutto hanno disincentivato gli agricoltori a ripiantare ortaggi, grano e quant'altro. Altro elemento, l'agricoltura sociale, nelle aree interne, nelle zone rurali, il welfare pubblico sta scomparendo. Se pensiamo che hanno chiuso tante scuole, se pensiamo che per esempio gli agri asilo, nelle fattorie didattiche, negli agriturismi, che è un'implementazione della multifunzionalità agricola, si possono realizzare come reddito per gli agricoltori ma anche come welfare, come servizio a quei territori. Se pensiamo che lo spopolamento delle aree interne poi sono tutti i disastri delle calamità che vediamo a valle, ultimamente abbiamo assistito a tanti alluvioni, a tanti disastri che poi si sono realizzati nella parte marina e sulle nostre coste. Tutto questo fa parte di una strategia che o c'è e ci crediamo e la sosteniamo con norme, con semplificazione amministrativa, cioè non possiamo continuare a fare i viaggi della speranza negli uffici regionali per esempio per avere il buono o il libretto del buono agricolo, del gasolio agricolo, per poter fare la nostra attività. Questo nel 2017 è improponibile, cioè inaccettabile, è veramente una mortificazione.